Un bagno di folla per questa nuova Jeep Devo dire che era inaspettabile Una quantità di gente così non si vedeva da anni Il resto è un modello nuovo E' frizzante Ha tutte le caratteristiche Tecniche e anche le caratteristiche di qualità Non ultima il prezzo Ecco io so scusa la domanda Che l'avete già provato e va benissimo anche fuori strada Quindi sarà uno spettacolo in tutte le condizioni L'ho provato in tutte le condizioni Ieri ero a Parma a Varano a Parma Facciamo una pista con dei test drive che ci facevano su questa macchina Ho riprovato per l'ennesima volta questa macchina E devo dire che in fuoristrada si comporta in Grecia Quasi come un fuoristrada vero Più blasonato come Franca Ecco ci sono anche modelli però per il traffico di tutti i giorni Soltanto due ruote motrici Assolutamente il 1.4 benzina e il 1.6 diesel Si trova una motorizzazione interessante con 120 cavalli E un buon tiro ai bassi Silenziosa come tutte le diesel di nuova generazione E con dei consumi veramente di ottimo livello Da quando potremo provarla Prenotarla Prenotarla abbiamo già avuto delle prenotazioni E provata dal sabato 27 In Cori Di settembre ovviamente Bene siamo qui all'autoclub A Monzummano Concessionaria chip Importante Io ti lascio perché Ce n'è una libera La vado a vedere anche dentro Ok Ciao grazie Vai Questa è sicuramente da provare Questa è sicuramente da provare